Sono arrivati da tutto il Triveneto per chiedere il rinnovo del contratto. I lavoratori del comparto Edile hanno fermato i cantieri e hanno sfilato dalla stazione di Padova a Piazza De Gasperi per chiedere un aumento del salario, migliori condizioni di sicurezza, lotta al lavoro nero. Piattaforma con la quale vogliamo unificare la contrattazione di tutto il settore, mettendo insieme industria, artigianato e cooperazione. Ance in particolare oggi la stiamo pressando perché è l'Ance in particolare che non ci dà risposte per il rinnovo del contratto. Nel Veneto l'edilizia è uscita da una crisi pesantissima che ha decimato occupati e imprese. Dieci anni fa in Veneto gli addetti erano 180.000, di cui 110.000 dipendenti e il resto liberi professionisti. Ora sono scesi a 114.000, 65.000 in meno e anche le imprese sono calate, quasi del 40%. Siamo in una situazione di stasi, abbiamo bisogno del contratto proprio anche per incentivare questa ripresa che nel Veneto sta ritardando. Attualmente siamo in presenza di una lieve crescita e in questo scenario le organizzazioni sindacali chiedono per la prima volta un contratto unico per tutto il settore, attualmente diviso tra comparto industriale, artigiano e cooperativo. I sindacati invece chiedono al più presto una risposta dall'Associazione Costruttori e una ripresa delle trattative.